Seconda sconfitta stagionale, secondo stop tra le mura amiche per il CLN Cusmolise, che dopo il turno di riposo esce con una battuta d'arresto contro una Roma più concreta nello sfruttare le occasioni avute. Il quintetto di Sagginario, che deve rinunciare ancora a Capitano Di Stefano, sempre alle prese con problemi fisici, e da un labella non al meglio con Barrichello che peraltro esce anche lui malconcio alla contesa, ci prova sin dall'avvio, ma si ritrova a dover fare conti con una Roma che riesce a rispondere presente ad ogni tentativo di rosso-blu, anzi sono gli ospiti a passare con Bobadiglia e a difendere il margine di vantaggio fino alla fine della frazione. Nella ripresa Donadoni trova il punto del raddoppio e in quel momento Marco Sagginario si gioca l'opzione del portiere di movimento, con Triglia che veste la casacca. Dirisio riporta sotto i suoi, poi Luca spareggia i conti, ma sul finale Luizinho realizza la rete del definitivo successo giallorosso e, nonostante i tentativi dei padroni del casa, la gara si chiude col successo Capitolino per 3-2 ed un calendario che ora, a stretto giro di posta, chiama i campobassani ad un altro esame particolarmente intricato, come quello di mercoledì sera in casa della leader del torneo Lido di Ostia.